Dopo le accese polemiche tra maggioranza e opposizione per un debito che il comune di Taurianova deve pagare a un privato cittadino, un consiglio comunale che ne approva lo storno e il passaggio del debito nel dissesto finanziario, la revoca dello stesso con un altro consiglio convocato alla chetichella, che ufficializzava il dietrofronte dell'amministrazione e le accuse delle opposizioni per la gran confusione del primo cittadino, arriva adesso la difesa del sindaco Fabio Scionti, che dopo aver sbagliato punta il dito sul suo avversario di sempre. L'ex primo cittadino Roy Biasi, come causa di ogni male per l'ente che sta guidando. Come un disco rotto arrivano le accuse della maggioranza e del sindaco a Biasi, che lo definiscono imbonitore. Il debito che l'ente deve pagare deriva, secondo l'amministrazione Scionti, insieme a tanti altri disastri finanziari, dalla cattiva gestione portata avanti dall'attuale leader degli innamorati, Biasi, e arriva l'elenco dei disastri, dalla Gioseta, ricorda Scionti, al mutuo Banco Opi, a Fons Nova Vita Felix. Secondo Scionti, Biasi guidava il comune di Taurianova creando le condizioni dalle quali sono scaturiti i colossali debiti che hanno provocato l'attuale dissesto finanziario dell'ente. Ora con fare pilatesco, osserve ancora Scionti, finge di dimenticare che sulla questione in discussione sono state compiute scelte amministrative piratesche, che a distanza di oltre 12 anni hanno portato l'ente a subire una condanna a un obbligo di risarcimento danni per illegittima occupazione dei suoli. Occupazione, aggiunge, e danni che, è bene ripeterlo, li ha provocati chi ha amministrato il comune dal 2002 fino al 2006, ovvero sia Roibiasi. Ma il sindaco Scionti dimentica anche che uno dei principali pilastri di quella passata amministrazione di quelle scelte, che ora tanto critica, oggi è un componente importante della sua maggioranza. In una nota stampa spiegano che con la delibera numero 40 del Consiglio Comunale, poi revocata in autotutela nel successivo Consiglio, si voleva solo modificare un capitolo di un'ipotesi di bilancio la cui utilità era legata solo alla definizione della tentata azione transattiva, quindi una variazione sull'ipotesi di bilancio, non su un bilancio approvato. C'è da scommettere che è una polemica che non finirà certamente qui.